Gli occhi al cielo, la preghiera insegnata da Gesù. È il tema della scuola accompagnata da padre Alfredo Avallone, che ogni terzo venerdì del mese ha luogo presso la cappella dell'Istituto Serafico di Assisi. Durante il secondo appuntamento è stato approfondito l'argomento la necessità di pregare. Ad un momento iniziale di riflessione sono seguite l'adorazione eucaristica guidata e l'adorazione silenziosa notturna.